Hello guys, ciao ragazzi! Bene bene bene, ci troviamo questa sera per un tutorial velocissimo, ma veloce veloce, veramente. Me l'ha chiesta una mia allieva, perché lei ha imparato a fare la melodia velocemente di questa canzoncina, che è sempre la stessa strofa che si ripete, ma non sapeva fare l'accompagnamento, che è veramente semplicissimo. Stiamo parlando di una cosa che premetto. Mi raccomando, appena dico il titolo di questa canzone, non fatevi idee, cose strane, di colori, cose politiche. Qui si fa musica e la politica non si fa. Se ne sta fuori dalla porta, in casa mia la politica non entra. Quindi, perché stiamo parlando di un pezzo che si intitola Oh Bella Ciao, quindi la classica canzone dei partigiani, sapete benissimo, no? Partigiano Ciao Bella, ciao Bella. Allora, andiamo a fare questo tutorial velocissimo, velocissimo, per far vedere quali sono i tre accordi che accompagnano questa semplicissima melodia. Siccome me l'ha chiesta, ma mi pare che me l'aveva già chiesto un'altra volta con un messaggio anche un altro allievo. Nel frattempo vi ricordo, vi ricordo che è fresco fresco, Bayer, tutto completo, parte prima e parte seconda, su una bellissima chiavetta USB da 16 giga. Quindi ci sono tutti gli esercizi, 118 lezioni del Bayer complete su una chiavetta USB. Nella mia home page di YouTube cliccate su Corsi di pianoforte e vi porta direttamente su YouTube, non su YouTube, vi porta direttamente su eBay dove potete acquistare direttamente di lì questo corso bellissimo su la chiavetta USB ed è completo, c'è sia la prima parte che la seconda parte. Ok, detto questo andiamo a fare velocemente questo piccolo tutorial di Obella, ciao! Eccoci qua e vediamo velocemente questo tutorial, è semplicissimo. Allora, la melodia, la tonalità è La minore, gli accordi sono tre, La minore, Re minore, Mi maggiore e La minore. Allora, il La minore è composto dal La, Do e Mi, il Re minore è composto dal Re, Fa, La e il Mi maggiore dal Mi, Sol diesis, Si. Ed ecco i tre accordi. Questa è la melodia che parte con il Mi. è tutto qua perché poi la canzone continua a ripetersi questa strofa qui. Quindi ancora rifacciamo la melodia. Ok? Allora, l'accompagnamento La minore, quindi il primo accordo lo andiamo a mettere qua. Quando andiamo a battere questo Do qui, eh? Vedete? ok? Ve lo ripeto ancora. La minore. La minore. Ancora La minore. Re minore. E torna La minore. E qui poi vai in maggiore. Vedete? Possiamo un Mi. Ok? Rifacciamolo ancora. Se vogliamo farlo col metronomo, col tempo, andiamo a mettere un metronomo a 90, non tanto veloce. Due, tre, quattro. Quindi un, due, tre. Ok? Tutto qua, ragazzi. Vedete? Il pezzo è semplicissimo. Dai, mettetevi sotto e fatelo se vi piace suonare questa canzoncina. Ok? Avete visto come va fatta? È semplice semplice. Anche te che mi hai chiesto come bisognava accompagnarla, vedi che adesso ti metti lì dieci minuti e la impari subito, senza nessun problema. Bene, ragazzi. Detto questo, io vi saluto. Vi do appuntamento alla prossima cosa che faremo. Se faremo un bel pezzo classico che sto preparando, di cui non vi dico ancora niente, ma che andremo poi a postarlo in versione semplice e veloce su YouTube nella versione free, mentre con i dettagli, come sempre, sapete che sono pezzi che vado poi a postare nella pagina di Patreon. Ok? Detto questo, ragazzi, il mio solito e consueto saluto. Bye, bye!